... Incidente mortale nel pomeriggio di domenica 9 aprile intorno alle 16 sulla provinciale 41 d'Alie a scontrarsi una Fiat Panda con a bordo un 24enne residente a Milano e una motocicletta Ducati. L'impatto è stato alquanto violento, la vettura si è ribaltata e ha colpito una Volkswagen Golf. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, i carabinieri di Aglie e Castellamonte, la coce rossa di Rivarolo Canavese e il soccorso avanzato di Caduso. Inutili tentativi di salvare il motociclista che purtroppo è deceduto. Ferito il giovane a bordo della Panda che è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Sul posto anche il sindaco di Aglie Marco Succio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Allora Perché il quadro l'abbiamo già girato. Hai visto che è legata che è per terra. Cioè guarda la strisciata. Grazie. Grazie.